Sono molto chiaro, molto honesto ogni volta con l'engineer e cercare di esplendere le sensazioni che hai nel carro perché hanno tutte le informazioni nei computi, hanno le persone cleveri con tutti i studi e eccetera e devi solo dare loro la vera informazione. Ci sono diversi tipi di informazioni, perché fai da instruzione, solo per rinunciare il carro, come per rinunciare l'engine, le settimane delle carri e così via. E poi hai informazioni sull'implanamento, per esempio, siamo fuori, c'è una rinunciare, quanti lapsi, qual è l'obiettivo di questa rinunciare e così via. Approche a corner 7, la radio per voi. Ok, la radio è molto fuori e clara per noi, stiamo parlando per cercare la scuola. della radio, vedo che stai approcci a corner 10 ora, Mickey Mouse chicane. Stai aiutando il driver a gestire il traffico, chi sta dietro, chi sta davanti, chi sta davanti, dove è la migliore gara per lavorare e questo è fatto facile per noi, perché abbiamo la mappa GPS con le carri. E poi ci sono informazioni sull'implanamento e la rinunciare, quindi parli di classificazione, il tempo, le scuole, la strategia di rinunciare. Ok, siamo P3 al momento, Hamilton, Mazzonato, us.